Ancora vicenda legata ai 18 marittimi prigionieri dei libici abbiamo raggiunto telefonicamente alcuni fra i familiari ancora adesso appostati davanti Montecitorio in attesa di risposte sui propri cari, i quali ribadiscono hanno un'unica colpa se così si può definire aver svolto il proprio lavoro. Non abbiamo, nonostante siamo così vicini al nostro governo, nessuna risposta, nessun dato concreto della reale situazione. Quindi una situazione che davvero mette a dura prova la pazienza, si sa, si dicono che stiano bene però… Lo stare bene ce lo dicono continuamente ogni giorno, è la farnesina, è il ministro Di Maio, però a noi una prova concreta non l'hanno mai data. Io da mamma e di tutti i familiari dico di affreccare le cose e mandare il più presto possibile tutti i pescatori a casa perché noi siamo qua di giorno, di notte, siamo stanchi sempre di sentire le stesse parole. Davvero una situazione che colpisce al cuore, che colpisce l'intera comunità. Voi avete avuto risposte principalmente, sentite vicino la comunità mazzarese, la comunità italiana? Insomma diciamoci, però vogliamo più aiuto possibile, siamo distrutti veramente, vogliamo i nostri pescatori a casa, il più presto possibile, perché i nostri pescatori andavano a lavorare, non passano a passeggiata e del lavoro finire in galera è una cosa che non si accetta, specialmente per la mamma, è una cosa veramente difficile. Comunque, accettatevi e dateci aiuto al più presto possibile, vi ringrazio anticipato. Grazie.